14 scatti di paesaggi aretini e naturali ad allietare l'ospice. Da questa mattina infatti chi entrerà nella hall dell'ospedale San Donato troverà in esposizione temporaneamente le foto dell'Unione Italiana Foto Amatori di Arezzo. Le immagini infatti scattate da sette fotografi andranno poi ad ornare la palazzina del Calcit che ospiterà il nuovo hospice. Quella sarà la loro definitiva ubicazione al termine dei lavori ma nel frattempo rimarranno in mostra all'entrata dell'ospedale. L'idea è nata dai foto amatori che volevano fare delle foto per regalare all'ospedale e abbiamo individuato una palazzina del Calcit per la collocazione definitiva. Poi nel frattempo visto che i lavori erano già pronti abbiamo insieme al direttore dell'ospedale stabilito di fare una mostra qui nella hall e perciò diciamo si fanno due cose l'una andando nella palazzina del Calcit e nel frattempo i visitatori dell'ospedale San Donato ne usi offriranno. Tutto ciò che può portare un po' di musica di colore di allegria e di bellezza all'interno di queste mura a noi è sempre gratuito. Quindi benissimo che sia la prima parte di un progetto che vada molto lontano.